Buonasera, eccoci qua anche alla domenica. È uscita la nuova ordinanza della regione. Marco, in che cosa è cambiato rispetto a quella precedente? Beh, alcune novità. Diciamo che è cambiato tutto quello che poteva cambiare nei limiti del DPCM nazionale, ovvero sia al di là delle promesse in parte mantenute da parte della regione Liguria, sia arrivati a una forma di parziale nuova apertura togliendo i confini provinciali verso quelli regionali, adesso andremo a vedere di cosa si tratta, ma anche una disponibilità verso le attività commerciali e imprenditoriali che si prevede possano aprire la settimana successiva, cioè dal 18 di maggio, quasi fosse già una fase 3, una fase 2b, chiamiamola così, ecco, questo 18 maggio è atteso da moltissimi, io posso anche dire giustamente, però andiamo con ordine. Prima di guardare i dati, quindi parliamo proprio di ordinanza, di questa ordinanza che è stata presentata oggi e varrà da domani, Marco, se riesci con l'aiuto della grafica, con la tabella 1, riassuntiva, vediamo subito insieme di cosa si tratta. Quindi ci sarà l'accesso alle attività commerciali di cura della persona, quindi estetisti, per esempio, parrucchieri, attività economiche, oltre a palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri termali, centri ricreativi, tutto ciò è per, non aprire al pubblico, ma per fare gli interventi di manutenzione e di sanificazione, per preparare, diciamo, la propria attività in questi sette giorni, dall'11 al 18. Poi ci sarà la possibilità della vendita, dell'apertura di coloro i quali fanno vendita di articoli sportivi, di attrezzi da pesca, articoli da campeggio e biciclette, cosa che non era ancora stata contemplata nella precedente ordinanza. Poi, per quanto riguarda gli spostamenti, Marco, gli spostamenti all'interno del territorio della regione Liguria saranno concessi per necessità generiche, questo è quello che è venuto fuori, quindi basta che ci sia una necessità, basta che ci sia una necessità, si può andare in giro per la nostra regione, basta rientrare in giornata. Cioè, dichiaro, avevo voglia di farmi un giro, va bene lo stesso, non penso proprio che non è una necessità. Non è una necessità quella lì, quello lì è uno sfizio, una necessità è dire voglio andare a vedere una, che cavolo ne so, il tramonto no, il tramonto no, però ho bisogno di comprare una cosa, questa cosa non c'è dentro la mia provincia, vado a comprarla a Imperia, benissimo, perché? Perché mi serve, bene, ho una necessità, oppure per motivi di salute, ma per motivi di salute in realtà si poteva già prima girare per tutta la regione. Comunque, basta avere una necessità da domani, anche con i co-residentici e con coloro che vivono con noi abitualmente, possiamo salire in macchina e andare. Basta rientrare entro fine giornata, questo è l'altro avviso di Regione Liguria, contenuto nell'ordinanza 28. Andiamo avanti, c'è disponibile la riapertura di tutte le residenze turistiche alberghiere, le locande, gli alberghi diffusi, tutte le strutture ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast, case appartamenti e vacanze, questa è un'altra novità. Poi, per quanto riguarda le attività motorie, quelle che avevamo già visto precedentemente, nella precedente stesura dell'ordinanza, quella 25-2020, si potrà non più limitarsi alla provincia, ma girare tutta la regione per andare a pescare, per andare a fare canottaggio, per andare a fare arrampicata, windsurf, surf, attività acquatiche, terrestri, eccetera. Sono consentiti gli spostamenti quindi in tutta la regione e non solo, prima erano solo a livello individuale, adesso si possono fare con i co-residenti, ovvero quelli che vivono con noi, abitualmente. E naturalmente, attenzione, questo per quanto riguarda lo spostamento, poi l'attività to-cour, dell'attività sportiva motoria, va fatta individualmente, attenzione. Mamma mia. Ok, andiamo avanti, è concesso uscire in barca? È concesso uscire in barca dalle 6 alle 22, rimane il limite dalle 6 alle 22, però si può fare anche un'uscita con più persone, purché con residenti, quindi se noi abbiamo una barca e i nostri membri della famiglia sono più di due, compreso noi, quindi magari abbiamo dei figli o il cugino che vive con noi, bene, possiamo imbarcarlo e andare a fare un giro in barca, basta che si faccia dalle 6 alle 22. Questo è un altro aspetto di novità in questa nuova ordinanza che stiamo parlando a livello regionale, naturalmente. Altre novità, l'utilizzo anche della moto, adesso è concessa, nell'ambito dell'attività motoria, anche per la moto fuoristrada, il rally, il motorelli, il motocross, l'enduro, il trial, eccetera, su tutto il territorio regionale, poi qui parlano di moto, non so se intendono anche le auto poi, vabbè, dettagli. Poi è concessa la raccolta dei funghi, dei tartufi su tutto il territorio regionale, anche, non so, non da soli, ma anche con i nostri co-residenti, cioè con chi vive solitamente con noi in casa. Poi, per quanto riguarda la coltivazione del terreno, sappiamo che era già concesso a livello individuale, naturalmente il terreno deve essere di nostra proprietà, deve essere di uso agricolo e adesso possiamo farlo anche con i co-residenti su tutto il territorio regionale, questo era anche prima. Quindi, se possiamo spostare in tutta la regione, se abbiamo un terreno da andare a raggiungere e a, diciamo, gestire, a tenere, anche con chi vive con noi, quindi non solo a livello individuale. Ricordiamoci che dobbiamo rientrare in serata. Poi è concesso l'allenamento e l'addestramento dei cavalli su tutto il territorio regionale, questa attività deve essere fatta in maniera sempre individuale, lo ricordiamo ancora una volta. Andiamo avanti, Marco, ancora con dei punti, diciamo, di dettaglio su cose che non sono già state scritte nella scorsa ordinanza, ma qui ci sono delle aperture maggiori, come l'allenamento e l'addestramento di ogni tipo di animale, anche piccioni, adesso si possono allenare, oltre che i cani e i cavalli, come detto. Nonché l'attività di educatore cinofilo è aperta, purché in aree autorizzate all'interno di tutta la regione Ligure. Altra cosa, lo spostamento con i nostri residenti, con i co-residenti, nell'ambito di tutto il territorio regionale, verso le proprie imbarcazioni. Se abbiamo una barca nel porto di Imperia, per esempio, o di La Spezia, possiamo raggiungerlo con tutti i membri della famiglia con cui abitualmente viviamo. Naturalmente questo per lo svolgimento dell'attività necessaria alla manutenzione, alla riparazione e alla sostituzione delle parti necessarie. Quindi è una cosa parallela a quello che abbiamo detto prima. Si può uscire in barca per attività sportiva anche con altri membri, basta della famiglia e della famiglia che vivono con noi. La stessa cosa vale anche per andare a fare manutenzione e aggiungiamo, come dice il punto successivo, raggiungere le seconde case, il camper, la roulotte di proprietà, e sottolineo di proprietà, su tutto il territorio regionale per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione di queste bar, camper, roulotte o seconde case, anche con i co-residenti, quindi non ci dobbiamo andare a livello individuale, ma anche con gli altri membri della famiglia o i nostri inquilini, con l'obbligo anche in questo caso di rientro in giornata presso il nostro domicilio. Queste sono le novità contenute all'interno dell'ordinanza 28-2020 della Regione Liguria che avrà fede, che varrà dalla mezzanotte di domani e scadrà il 17 maggio, perché dovrebbe arrivare nel frattempo il DPCM nuovo da parte del Presidente Conte, che come è stato specificato anche da Regione Liguria, viene sollecitato a far sì che ci siano meno restrizioni possibili nel prossimo DPCM e si rimanderà molto delle responsabilità di chiusura e di gestione dei movimenti, dello sforzamento, degli incontri individuali o collettivi delle persone alle regioni. Questo è l'intento vociferato già oggi e vediamo se poi il Governo centrale lo recepirà. Questo è un po' il contenuto della ordinanza regionale. Parliamo adesso di numeri, perché comunque a quest'ora noi parliamo sempre di numeri e anche oggi abbiamo da aggiornarvi su quello che la protezione civile ci ha diffuso intorno alle 18 e oggi abbiamo 105.186 persone guarite, che sono salite di 2.155 in più di ieri. Come vediamo infatti dalla grafica della protezione civile, abbiamo 83.324 persone ancora positive in Italia, numero che sta decrescendo. 30.560 i deceduti e che su questo abbiamo già un record e poi appunto i 105.186 che sono gli guariti in totale in tutta Italia, come abbiamo avuto modo di dirvi proprio adesso. E nel dettaglio andiamo a vedere questi numeri con il grafico 01 Marco. Vediamo che oggi abbiamo un record appunto, il primo dei due a livello nazionale. Il primo è questo, cioè mai così pochi tamponi sono venuti fuori nell'analisi nelle ultime 24 ore, ovvero sia 802 tamponi positivi in totale in tutta Italia. Numero molto basso, come vedete anche sulla destra degli histogrammi, portando un totale di 219.070 tamponi dall'inizio della pandemia, comunque un numero interessante. Che andiamo a confrontare con che cosa? Con la grafica 03 Marco, che contiene i tamponi fatti oggi. Come accade ormai a consuetudine alla domenica, poi accade anche a lunedì perché la mancanza di quelli di tamponi raccolti oggi come numeri verranno decurtati anche domani, siamo a 51.678 tamponi giornalieri, quindi un po' meno di ieri e degli altri giorni. Però abbiamo questo numero che ci può dire poco perché sappiamo perfettamente, lo ribadiamo tutte le volte, che non è che i tamponi che vengono fuori positivi corrispondono ad altrettante persone positive. Purtroppo c'è un numero sommerso di casi di positività non riscontrata, non tamponata, che può essere addirittura pari al doppio di quello che viene monitorato. Lo diciamo sempre, non lo dico solo io, non lo diciamo solo noi di Entradiu, ma è una statistica fatta anche dai laboratori dell'Istituto Superiore di Sanità e quindi dalla Protezione Civile. C'è una metodologia che è quella di tenere sotto controllo i numeri dei tamponati, dei tamponi e su quello si fanno gli analisi grafici, le statistiche eccetera eccetera. Però esiste anche tutto il mondo, lo sanno soprattutto chi ha avuto magari un parente, un amico o i loro stessi a gestire l'emergenza coronavirus all'interno del proprio ambito personale, magari ha visto un passaggio della malattia all'interno del proprio corpo e non se ne è quasi neanche accorto, oppure o se ne è accorto coi test sierologici che ci dicono se abbiamo gli anticorpi all'interno del nostro corpo o meno, oppure addirittura ha dovuto attendere molto tempo prima di avere un tampone e quindi finché non viene fatto a lui un tampone questa persona è diciamo nel sommerso, cioè non viene fuori, malgrado possa essere positiva. Parliamo con lo grafico 02 Marco, degli attuali positivi e quanto variano, oggi variano bene, variano abbastanza bene, non come ieri ma comunque meno 1518 gli attuali positivi, meno 1518 quindi scendiamo come abbiamo detto prima a 83.324 attualmente positivi nel nostro paese, 83.324 persone con il tampone positivo. Guardiamo il grafico 4, il grafico 4 ci fa vedere l'andamento delle persone ricoverate con sintomi, oggi meno 216, non è tanto, è sempre una zona verde come vedete gli istogrammi, sono 216 persone che non sono più ricoverate con sintomi negli ospedali italiani, questo cosa vuol dire? che possono essere passati in terapia intensiva oppure possono essere stati dimessi perché guariti o perché con sintomi tali che possono continuare la malattia a casa, quindi è un valore comunque interessante, l'importante è che come diciamo sempre non cresca assolutamente. Guardando la linea del grafico di questo parametro vediamo che siamo 13.618 persone ricoverate in maniera totale in tutti gli ospedali italiani, se guardiamo invece il dato della terapia intensiva con il grafico 0.5 Marco, vediamo che sono veramente pochi i letti purtroppo oggi liberati dalla terapia intensiva, solo 7 in tutta Italia e tra l'altro poi andremo a vedere che uno è in Liguria. 7 persone, 7 letti di ospedali liberati, meglio che niente possiamo aggiungere, guardiamo il grafico 5 che praticamente sta continuando a scendere ma oggi è praticamente uguale al valore di ieri perché 7 è un numero relativamente leggero, 1027 comunque ad oggi sono ancora le persone nel reparto Covid degli ospedali italiani come terapia intensiva. I decessi, eccolo qua il secondo record. Il secondo record fortunatamente possiamo registrare che abbiamo solo, tra virgolette solo, perché stiamo parlando di decessi e uno è sempre troppo, 165 persone decedute per o con il coronavirus. Quindi oggi abbiamo un numero più basso, forse dovuto, non lo so, non penso che la morte rispetti guarda il giorno della settimana, quindi la domenica si muore di meno che un altro giorno della settimana, non credo. Forse è un discorso di gestione del numero, forse, forse, aggiungo io. Però questi sono i dati ufficiali e noi ve li forniamo. 165 persone decedute. Guardiamo i guariti, Marco. Grafico 07. Il grafico 07 ci fa vedere che oggi sono guariti 2155 persone. L'abbiamo detto all'inizio, sono 2155 persone che non hanno più il tampone positivo, ma il doppio tampone negativo. Quindi questo è anche un altro dato interessante. Prima di chiudere, volevo farvi, non lo facciamo spesso, ma è giusto menzionarlo, col grafico 10, Marco, come siamo a livello di personale sanitario, di operatori sanitari in tutta Italia, a livello di positività. Siamo arrivati oggi, scusate, all'altro ieri, come dato aggiornato, a 24358 persone fra gli operatori sanitari, quindi medici, infermieri, anestesisti, operatori sociosanitari, eccetera, a 24358. È un numero alto. Vedete che purtroppo qui non c'è un plateau, purtroppo qui c'è una costante, più o meno costante, sempre crescita. Ricordiamoci che di questi 24358 ci sono anche i deceduti per coronavirus e quindi è una situazione, ricordiamoci che è gestita molto bene, nonostante la gravità e la novità nel gestire una pandemia di questo tipo, però ricordiamoci che sono sempre lì, in prima fila, in prima linea. Oggi siamo in fase 2, oggi ci sentiamo apparentemente più sicuri, più liberi, attenzione che è un'apparenza, lo vogliamo ribadire sempre. In realtà gli operatori sanitari sono sempre in prima fila, perché sono sempre a stretto contatto con persone che sono sicuramente positive, sia perché hanno un tampone positivo, perché hanno delle sintomatologie che sono fortemente contagianti e quindi corrono notevoli rischi per lavoro, naturalmente, perché è il loro lavoro, però è anche una mission in questa fase e i numeri sono pesanti anche, come stiamo vedendo, nel loro settore. Quindi ricordiamoci sempre che anche se siamo in fase 2, anche se arrivano a livello locale, più che regionale, più che nazionale, delle aperture per la nostra libertà di spostamento, di attività ludica, piuttosto che di attività lavorativa, ricordiamoci che il virus è ancora fra di noi. Ora non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma è una cosa sacrosanta e banale quanto vera, ovvero sia dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo sempre rispettare le norme basilari, ovvero sia utilizzare la mascherina quando è necessario, sottolineo quando è necessario e quando è necessario, quando usciamo di casa, primo, e quando usciamo di casa non quando siamo soli, ad esempio mentre siamo in auto o in motorino, oppure quando siamo a piedi in una zona effettivamente dove non c'è nessuno in giro, ma dobbiamo usarlo quando andiamo a fare la spesa, quando andiamo vicino a potenzialmente delle persone, vicino vuol dire anche sotto i due metri, non vuol dire, dobbiamo parlarci proprio davanti, anche due metri, due metri e mezzo, lì dobbiamo essere per forza dotati di mascherina, e mascherina montata bene, montata bene cosa vuol dire? Per quanto riguarda la mascherina chirurgica vuol dire con gli elastici dietro le orecchie, con il ferretto che stringe sul nostro naso, sul nostro aspetto nasale, che copre appunto naso e bocca, fin sotto il mento, e con il verso giusto, qual è il verso giusto? Allora, per le mascherine prendiamo per esempio, l'abbiamo già detto anche ieri, le mascherine quelle di Regione Liguria che sono forse quelle più diffuse, perché sono state date con circa due milioni e mezzo di pezzi, e tra le altre cose ricordiamo che da domani ci sarà la seconda tranche di disponibilità di mascherine presso le farmacie Liguri, in maniera gratuita, ognuno di noi che non abbia già usufruito di questo servizio, cioè che non abbia già preso la propria coppia di mascherine, può andare presso una qualunque farmacia con il proprio tesserino sanitario e prendere la coppia di mascherine che gli spetta, non una di più, non una di meno. Queste mascherine hanno due colori diversi, uno fronte e uno retro, la parte più scura va messa lato bocca, cioè lato interno verso il nostro viso, la nostra faccia, il nostro naso, mentre la parte più azzurra va messa all'esterno, questo è importante perché anche quelle mascherine hanno un verso per funzionare correttamente, se lo si mette nel verso sbagliato è come non averla. Tra le altre cose ricordiamoci l'uso dei guanti, l'uso dei guanti anche lì, non sempre comunque indossare i guanti, ma se noi dobbiamo toccare delle cose che non sono di nostra proprietà, perché le abbiamo disinfettate, stiamo parlando ad esempio del corrello della spesa, piuttosto che aprire una porta, piuttosto che portare dei sacchi o degli oggetti che possono aver toccato altre persone, sono tutte cose che dovrebbero prevedere l'uso dei guanti. Insieme magari anche, o in alternativa anche quando ce li togliamo i guanti, l'uso del gel sanificatore, lavamani, quello che ha una percentuale tale di prodotto che neutralizza il virus se dovessimo venire a contatto. E terza cosa appunto il lavaggio stesso delle mani, quindi prima di toccarci naso, bocca, oppure fregarci gli occhi, laviamoci le mani, basta qualunque sapone, un sapone da casa diciamo neutro per il lavaggio delle mani, lavarle almeno per 20-30 secondi fregando sotto l'acqua e poi possiamo ritenerci sicuri da quel punto di vista lì. Quindi questi sono i soliti banali, ripetitivi consigli che vengono sempre dati oltre al fatto poi di mantenere la distanza di sicurezza, almeno un metro, meglio due, fra una persona e l'altra, indipendentemente da questa persona chi sia. Naturalmente gioco forza che se noi viviamo con una persona, il nostro compagno, la nostra compagna, i nostri figli, i nostri genitori, se ci viviamo insieme, credo gioco forza che siano sani, quindi fra di noi conviventi non dobbiamo portare la mascherina. Però fra tutto con tutte le altre persone che veniamo a contatto per lavoro, o per altri motivi, indossiamo senza paura, ormai dobbiamo averci fatto l'abitudine questa mascherina e teniamo una distanza di almeno un metro. Hai domande Marco? Stavo guardando che l'elastico della mascherina andrebbe incrociato per chiudere meglio dalla bocca. Ti risulta? Allora, più che al... Sì, nel senso che l'incrocio fra l'orecchio, diciamo, e la mascherina ai lati del nostro viso aiuta a tirare di più l'elastico, nel senso a mettere più in tensione e quindi a far combaciare meglio la mascherina al nostro viso. È vero, però questo è un dettaglio utile che vale soprattutto per chi trova l'asca, la mascherina, nel senso che, essendo una taglia standard, unica, ad esempio nel mio caso, che ho il faccione, mi basta mettere gli elastici dietro le orecchie e vai tranquillo che la mascherina è come se combacia. Ma ci sono persone, magari, o bambini, perché ricordiamoci che sopra i sei anni è obbligatorio in certi comuni addirittura indossare la mascherina la perdo, quindi anche i bambini devono avere una mascherina combaciante e per fargliela combaciare meglio incrociamo, prima di mettere gli elastici dietro le orecchie, facciamo un incrocio dell'elastico e poi le agganciamo dietro le orecchie. Così, facendo, diventa più tesa la mascherina al viso e quindi funziona meglio. Sì, è vero. Sì, è vero.